Ma la guerra quando arriva da noi? Un giorno mio figlio davanti alla tv mi ha fatto questa domanda. Non mi ha chiesto se, mi ha chiesto quando, sicuro che prima o poi sarebbe arrivata anche qui. Per provare a rispondergli ho scritto un libro e poi ho incontrato ragazze e ragazzi nelle scuole. L'ho fatto per provare a raccontare con parole semplici la cosa più assurda che fanno gli esseri umani. La guerra. Sono Francesca Mannocchi e questo podcast di Cora Media si chiama, per esempio, la guerra. Buongiorno, buongiorno Seconda D. Prima di cominciare a parlare dell'Iraq che è il paese di cui discuteremo e che racconteremo un po' insieme. Proviamo a fare così, che faccio io un paio di domande a voi. Come si sente, secondo voi, un ragazzo, una ragazza della vostra età che vive quello che vediamo ogni giorno al telegiornale o che sentiamo ogni giorno per radio o che vedete sui vostri social, su TikTok, su Instagram? Secondo voi come si sentono? Si sentono, insomma, con l'angoscia e un po' arrabbiati perché le persone, insomma, un altro popolo, un altro paese, li attaccano privandoli di tutto ciò che avevano. Io qualche giorno fa ho conosciuto un bambino ucraino e adesso, per fortuna, si è, insomma, trasferito in Italia, però per le prime due settimane da quando ha cominciato la guerra, lui è stato per due settimane sotto un palazzo seduto senza manco sdraiarsi. Quindi si vede come, insomma, le persone possono soffrire anche in certi punti di vista di questo argomento. Come ti chiami? Matteo. Matteo, ti ricordi come si chiamava questo bambino? Paolo. Quando hai sentito la sua storia, ti sei chiesto come stesse lui o, per esempio, ti sei chiesto cosa avrei fatto io se fossi stato al suo posto? Se io fossi stato al suo posto non avrei fatto niente perché comunque un bambino, insomma, o anche una persona contro, insomma, delle armi non è che si può fare chissà cosa, quindi non ho, se fossi stato al suo posto avrei fatto come lui, non avrei fatto niente perché, insomma. effettivamente pochi paesi come l'Iraq ci mettono di fronte a un sentimento molto complesso e cioè il fatto che la guerra tiri fuori una grande capacità di resistenza, di resilienza, di adattamento alle difficoltà, una grande capacità di sopravvivere anche con tutto quello che manca, quando manca l'acqua, manca il cibo, manca il riscaldamento, manca un luogo sicuro dove dormire, ma che contemporaneamente ci espone al rischio di alimentare dei sentimenti molto meno nobili di questi. Il desiderio di vendetta, la violenza come risposta alla violenza o lo stigma rispetto a persone, anche bambini, che sono ritenuti colpevoli delle colpe dei padri che combattono. E questo è un tema proprio centrale per il paese che andiamo a raccontare, per gli ultimi anni soprattutto del paese che andiamo a raccontare. Allora, naturalmente non c'è alcun giudizio in questo, ma c'è il racconto di tutte le sfumature che purtroppo la guerra porta con sé, e cioè chiederci che sentimenti proveremmo noi, cosa proveremmo noi se fossimo sottoposti al dramma della guerra, cosa proveremmo noi se fossimo costretti dalla sera alla mattina a vivere in una tenda anziché nelle nostre case, cosa proveremmo noi se i nostri genitori fossero uccisi da un bombardamento, quanto su che cosa faremmo crescere e nascere un desiderio di dialogo con l'altro, o se istintivamente rifiuteremmo l'altro, o se cercheremmo di capire le loro ragioni e con quali strumenti. E questo è uno degli aspetti più scivolosi e più faticosi delle guerre, cioè chiederci di interrompere l'onda emotiva delle cose che accadono nel momento in cui accadono e chiederci ma perché sono accadute, dove affondano le cause di questa guerra che è iniziata, di questa invasione che ha distrutto un territorio, della nascita di un gruppo estremista come l'Isis per esempio. E' nato dal nulla? E' nato nella parata delle Toyota che sono entrate a Mosul nel 2014? O c'era qualche ragione che negli anni precedenti aveva contribuito a facilitare la creazione di un movimento come quello? E queste sono tutte le domande che non ci aiutano a risolvere un tema così importante come lo scoppio di un conflitto o come la nascita di gruppi estremisti e terroristici che si macchiano di orrori e di crimini orrendi ed efferati come quelli compiuti dall'Isis in Iraq, ma che ci aiuta a comprenderle. Perché? Perché solo comprendendo un evento, nelle sue ragioni storiche più profonde, noi possiamo evitare che questo evento si ripeta in futuro. Ogni paese che proviamo a raccontare in questo podcast parte da cos'è per me quel paese. Allora, se penso a cos'è stato per me l'Iraq di questi ultimi anni, è stato il racconto della guerra per liberare Mosul, che è la seconda città irachena, ma è anche la città in Iraq che venne scelta dai miliziani dello Stato Islamico come capitale irachena. Per me l'Iraq degli ultimi anni significa il racconto dell'offensiva che ha liberato Mosul dall'occupazione dei miliziani dello Stato Islamico, le conseguenze di quella guerra sui civili. Ecco perché non c'è un paese, forse come l'Iraq, che ci insegna quanto ci sia un momento nelle guerre più importante da raccontare di quando si combatte, che è il dopoguerra. Il dopoguerra è un momento in cui noi ci distraiamo sempre, perché viviamo l'equivoco di pensare che quando finisce il rumore delle armi finiscano le guerre, che quando ci sia un cessato il fuoco o una tregua finiscano le guerre e invece purtroppo quando finisce il rumore delle armi inizia la vera sfida, che è quella della ricostruzione, non solo la ricostruzione fisica, quartieri, infrastrutture distrutte, ma la ricostruzione morale, ovvero fare sì che persone che si sono odiate fino al giorno prima, combattute fino al giorno prima, tornino a parlarsi, tornino a fare parte della stessa comunità. Perché se noi non ci interroghiamo e non lavoriamo tutti insieme, ognuno per quello che può, nel fare sì che persone che si sono combattute e odiate, vicini di casa improvvisamente trasformati in antagonisti e nemici, tornino a stringersi la mano, quel tempo che noi chiamiamo dopoguerra si trasformerà nel terreno fertile della guerra successiva. E ci sono davvero pochi paesi come l'Iraq che raccontano esattamente questo destino. Da che cosa vorrei partire per raccontare l'Iraq? Vorrei partire da una storia che ci aiuta a snodare attraverso la biografia di una persona che in questo caso si chiama Ali Albarudi ed è un giovane fotografo, ma prima di diventare fotografo era un insegnante, un professore d'inglese all'università di Mosul quando Mosul era libera, che ho conosciuto a Mosul nel 2019, quindi circa due anni dopo che è finita l'offensiva per liberare la città. Ebbene, con Ali siamo diventati amici, come spesso accade quando si raccontano le guerre e la sua storia era la storia di un uomo che si era nascosto per due anni, senza poter uscire di casa, perché avrebbe rischiato di essere rapito o ucciso, non aveva visto la luce per due anni e quando si è presentato mi ha detto io mi chiamo Ali Albarudi e sono un sopravvissuto e è rimasto qualcosa negli occhi di Ali che è indicibile e che è stato non detto e che lui non riesce a tirare fuori e forse è per questo che ha deciso di trasformare la sua passione e la sua testimonianza nel diventare fotografo, perché mostra, ha mostrato la distruzione della sua città, ha mostrato quello che la guerra ha fatto a Mosul, ma ci sono molte cose di cui non riesce a parlare, tante altre le racconta le denuncia, ma cosa sia accaduto nell'animo di quest'uomo costretto a nascondersi mentre intorno i miliziani dell'ISIS occupavano e governavano la sua città, lanciavano persone dal balcone perché le accusavano di stregoneria o decapitavano i corpi dei prigionieri o bruciavano vivi i prigionieri nelle gabbie riprendendo questi delitti efferati, cosa sia rimasto della sua presenza mentre a Mosul accadeva tutto questo? Resta un'ombra nei suoi occhi che non è mai riuscito a snodare con le parole. Ali non aveva provato, come hanno fatto decine di migliaia di altre persone, a scappare dalla sua città quando nel giugno del 2014, nell'estate del 2014, le milizie dello Stato Islamico sono entrate in città e quando gli ho chiesto perché non fosse scappato mi ha risposto i sopravvissuti non scappano. Era come se l'atto di restare, la scelta di restare, quella che lui ha raccontato come una scelta di restare fosse la sua forma di resistenza. Aveva vissuto il dominio dell'Isis nella casa in cui era nato e cresciuto e ha detto che è tornato a respirare quando una volta liberata la città uno dei primi luoghi che è tornato a vivere anche simbolicamente è stata l'università. Quando i ragazzi e le ragazze hanno potuto tornare a studiare, hanno potuto tornare a sedersi sui banchi di luoghi che erano stati violati dalla guerra e violati dall'interpretazione tragica, brutale che l'Isis ha fatto della religione islamica e quando è tornato nell'università con i suoi studenti, non trovandoli tutti perché molti erano stati uccisi e molti altri erano scappati a causa della guerra, lui si è seduto e ha chiesto ai suoi studenti come è andata la vita e i suoi studenti hanno risposto prof ma quella non era vita, perché non era vita? Vi ricordate, vengo io a voi, se ve lo ricordate cosa è stata la vita sotto lo stato islamico per milioni di persone? Era molto difficile uscire perché era pieno di Isis e quindi ogni volta che uscivi dovevi essere molto attento perché rischiavi di essere rapito o peggio. cosa non si poteva fare? Non si poteva andare dagli amici a parlare, a divertirsi, anche qualcosa di più banale come andare a scuola ovviamente, andare al supermercato, quindi si perdevano anni di vita. Le donne erano di fatto costrette in una cattività che non permetteva loro di vivere, i bambini venivano educati nelle scuole secondo i canoni e i metodi e dei curricula che erano stati interamente riscritti, per esempio ai bambini delle elementari si insegnava a fare di conto sommando i fucili e i kalashnikov o parallelamente a questa forma di istruzione totalmente distorta c'erano dei campi di addestramento militare dove i bambini maschi venivano istruiti a uccidere gli infedeli, cioè tutte le persone che l'Isis considerava infedeli o apostati e quindi una delle cose fondamentali che ha fatto l'Isis, cioè il gruppo stato islamico, è stato ripensare da capo l'istruzione per i bambini e i ragazzi, non per le ragazze che naturalmente non avevano diritto di studiare, come ricorderete. Perché secondo voi un gruppo come l'Isis, un gruppo terroristico come l'Isis si è concentrato così tanto sull'istruzione dei bambini e dei ragazzi? Perché i bambini sono il futuro di una popolazione, di un paese e quindi istruendo i bambini si riesce a danneggiare il futuro dello Stato, della città. Perché i bambini e i ragazzi possono essere considerati una specie di arsenale, cioè le armi affinché un messaggio come quello di un gruppo terroristico come l'Isis possa essere trasferito nel futuro. Secondo voi quali sono gli strumenti che possono aiutare le persone che sono state vicine di casa, sorelli e fratelli e sono diventati antagonisti e nemici a poter tornare a parlare tra di loro? Secondo me un modo potrebbe essere solo col tempo perché magari io e un altro che ho sempre dedicato, tornare subito di nuovo amici ci vuole un po', bisogna insomma un po' riabituarsi insomma al suo carattere, un po' come reagisce, non so magari quando uno dialoga come reagisce oppure insomma conoscersi di nuovo e l'unico modo secondo me è il tempo. Secondo me bisognerebbe eliminare i pregiudizi diciamo contro quelle persone che sono state costrette a diventare persone cattive o comunque che sono entrate a far parte di questo gruppo e anche magari eliminare questi pregiudizi contro i figli dei soldati miliziani che magari sono innocenti e non hanno colpe. Questa risposta ci porta a raccontare uno dei temi che sono stati e purtroppo sono ancora più delicati nel dopoguerra iracheno che è la stigmatizzazione dei figli e delle figlie dei miliziani dello Stato islamico. Durante l'occupazione dello Stato islamico pensate che vivevano nei territori iracheni controllati dall'Isis mezzo milione di bambini, mezzo milione di bambini e ragazzi e ragazze sotto i 16 anni che erano stati istruiti in questa maniera. I bambini e ragazzi erano stati istruiti a diventare dei nuovi combattenti, cioè coloro che avrebbero combattuto con le armi la causa del califato. Le ragazze erano state istruite non solo a diventare madri, ma a diventare madri di nuovi martiri, madri di nuovi combattenti, madri di nuovi miliziani dello Stato islamico. Ecco perché anche la figura delle donne e delle ragazze nel racconto dello Stato islamico è stata un pochino sottovalutata o secondo me male interpretata, perché noi quando pensiamo allo Stato islamico pensiamo sempre alle donne e alle ragazze private dei diritti e chiuse nel burka. Questa è la prima immagine che ci viene in mente, queste silhouette di donne chiuse in questa maschera nera che le ingabbia e che fa vedere da una retina soltanto un'ombra dei loro occhi. È solo così? È tutto riconducibile e iscrivibile a questo la funzione che le donne hanno avuto nello Stato islamico? La risposta è no. Ecco perché le donne che ho incontrato nei campi profughi alla fine della guerra di Mosul sono donne che mi hanno insegnato che quello che pensavo di aver capito su quel movimento e su quegli anni iracheni in realtà era pieno di ombre che non avevo compreso, perché quando sono entrata nelle sezioni femminili dei campi profughi iracheni dove c'erano per lo più orfane e vedove pensavo di trovare di fronte a me delle donne piegate dagli anni che avevano vissuto, dai sopprusi, delle donne a cui era stato fatto il lavaggio del cervello, delle donne che vivevano le conseguenze di una radicalizzazione che a loro era stata imposta e invece no. Mi sono trovata donne di questo tipo e mi sono trovata di fronte anche delle donne che erano loro stesse radicalizzate e che dicevano delle frasi come so di avere la responsabilità di dover partorire dei nuovi martiri e di dover fare sì che attraverso la nascita di questi figli il messaggio e il progetto del califato e dello Stato islamico resista e arrivi nel futuro. Bene, perché vi racconto questa cosa? Per raccontarvi che cosa è successo dopo la fine, dopo la caduta dello Stato islamico a Mosul. Sono stati aperti e costruiti dei grandissimi campi profughi come il campo profughi di Al-Jadda che nella sua massima estensione ospitò circa 60.000 persone. Bene, pensate che nel campo di Al-Jadda c'era una sezione che era una sezione soltanto dedicata alle famiglie dell'Isis e che erano così vittime dello stigma di essere le famiglie dei miliziani dell'Isis che sulla loro tenda veniva messo un marchio, veniva scritta una D, era la sezione D del campo, in modo che tutti sapevano, tutte le persone che vivevano intorno, che in quelle tende vivevano i parenti dei miliziani dell'Isis. Erano messi in una sezione che poteva essere controllata come una specie di prigione a cielo aperto, erano facilmente identificabili in modo da poter essere controllati, ma soprattutto c'era un'altra ragione, erano rifiutati dagli altri. Perché provate a immaginare cosa significhi per una persona che ha perso i figli rapiti o uccisi dai miliziani dello Stato Islamico o che ha vissuto per anni sotto occupazione privato della propria libertà, avere nella tenda accanto i figli o le mogli di coloro che si sono macchiati di questi delitti. Ecco perché, come si fa a ricongiungere questa frattura, questa lacerazione all'interno delle comunità? Cos'è una cosa che secondo voi non c'è in un campo profughi? Come vi immaginate per esempio l'igiene personale in un campo profughi? Per esempio come pensate che si lavino le persone? Con dei secchi d'acqua, delle bacinelle. E quanti bagni pensate che ci siano in un campo profughi? Nessuno. Ci sono, sono delle latrine di lamiera posizionate in una zona del campo e spesso c'è così poca acqua pulita e acqua potabile o così pochi fondi per costruire tutte le latrine che servono che c'è una latrina condivisa da 200-300 persone e una doccia condivisa ogni 400 persone. Qual è la prima cosa che vi viene in mente che sarebbe necessario avere in un campo profughi? Secondo me una cosa necessaria che in un campo profughi sarebbe l'acqua oppure il cibo. L'acqua e il cibo, è molto giusto. E se una famiglia non ha acqua, non ha cibo a sufficienza, viene rifiutata dalla sua comunità, non ha un posto per mandare a scuola i loro figli, secondo voi che fa? Voi che fareste? Io magari migrerei in un'altra relazione per trovare una vita più sana, più sicura? Certo. Scapperesti? Certo. Secondo me hanno scelto l'Europa perché c'è più possibilità di trovare lavoro anziché nei paesi dove vivevano loro, o anche più cibo e anche più sicurezza. E questo è tutto vero, è una delle altre ragioni per cui un numero così alto di persone insieme, contemporaneamente, arriva alle porte d'Europa è proprio perché cominciano a diminuire i fondi per le emergenze, i fondi per le crisi, i fondi per finanziare tutto ciò di cui un esule, un profugo ha bisogno, cibo, acqua, istruzione, permessi di lavoro, permessi sanitari. Vorrei tornare al campo profughi di GED, al campo profughi del rifiuto. Se voi immaginate di essere i figli o le figlie dei miliziani dello Stato Islamico, immaginate di vivere in una tenda che è stata marchiata e segnata da uno stigma, da una macchia, da un'onta che rende voi colpevoli di qualcosa che non avete fatto e voi vivete anni della vostra vita rifiutati dal resto della comunità. Secondo voi quale sentimento potrebbe nascere e crescere nel vostro cuore, nel vostro spirito, nella vostra testa? Magari accusandoci di ciò che hanno fatto i nostri genitori iniziamo a sentirci un po' così, se ci dicono che è colpa nostra iniziamo piano piano a cambiare, a renderci conto che magari siamo veramente così, cosa che prima magari non accettavamo, ma magari non è vero tutto ciò. Se mi venissero a dire qualcosa che potrei aver fatto io quando non è vero perché l'hanno fatto i miei genitori, mi nascerebbe un sacco di rabbia dentro e vorrei picchiare tutti. Quindi come ti chiami? Clara. Quindi Clara ha un sentimento che immagini possa crescere dentro di te, un sentimento di frustrazione che può diventare rabbia, che può, se non viene accompagnato a un superamento, diventare violenza. Questo. Sì. Sì. Io proverei molta vergogna e... Come ti chiami? Claudio. Claudio. Proverei molta vergogna e tenderei a chiudermi in me stesso senza creare rapporti sociali con gli altri. Quindi un senso di estrema solitudine. Quindi violenza, solitudine. Io proverei moltissima rabbia e specialmente mi domanderei perché proprio io? Perché proprio io che devo essere afflitto da questo solco indelebile che mi porterò avanti per tutta la vita? Mi chiami? Edoardo. Edoardo, indelebile è proprio la parola giusta perché è proprio quello che marchia a caldo questi ragazzi e queste ragazze che, per esempio, quando parlavamo del dopoguerra che è la parte più delicata e importante del racconto dei conflitti, è perché nel dopoguerra andrebbero risolte esattamente quelle cose a cui voi avete cercato di dare nome. La frustrazione, l'isolamento, la solitudine, la violenza, la rabbia. Perché se tutti questi sentimenti non vengono sanati, non vengono curati, tutti questi bambini non vengono accompagnati nel superamento di un trauma che è un doppio trauma. Non è solo il superamento del trauma di chi ha vissuto la guerra e ne ha subito le conseguenze, ma è il trauma di sapere che i propri genitori si sono macchiati di crimini efferati. Se tutto questo non avviene, quei campi profughi, anziché diventare un luogo di sicurezza, di raccoglimento, di condivisione di uno spirito comunitario, diventano il terreno fertile di che cosa, secondo voi? Se tutte queste ferite non vengono curate. Quel campo profughi diventa il terreno di una nuova radicalizzazione, di una nuova guerra, di un nuovo estremismo. Perché i bambini, i ragazzi, cominceranno a guardarsi con lo stesso antagonismo e con lo stesso senso di ritorzione e di vendetta con cui si guardavano i loro padri. Il dopoguerra significa ricostruire una comunità, ricostruire la possibilità del perdono, garantire che le colpe dei padri non ricadano sui figli, perché dall'emarginazione nasce che cosa? L'estremismo. Nasce l'estremismo di domani. Lo sapete come si dice pace in arabo? In inglese, quello in inglese. Provate a dirlo un po' tre volte di seguito. Bene, nel 2021, a marzo, quindi anni dopo la ripresa di Mosul, il Papa fa questo viaggio incredibilmente simbolico in Iraq, che conclude con una celebrazione, una messa a Erbil, che conclude dicendo tre volte la parola salam, tre volte la parola pace. Io ti volevo chiedere cosa possiamo fare noi da qui per le persone che stanno vivendo la guerra. Allora, quello che penso possiamo fare tutti noi per le persone che stanno vivendo la guerra è provare a chiederci non soltanto quanta pietas, quanta empatia e compassione possiamo provare per le loro sofferenze, ma rispetto a ogni ingiustizia domandarci quali ne siano le cause. Questa è, secondo me, l'antidoto alle guerre di domani. Chiederci di fronte all'istantanea di un'ingiustizia quale siano le ragioni profonde di questa ingiustizia. Perché vi accorgerete, studiando, che purtroppo la storia delle guerre si ripete sempre, che ci sono delle situazioni simili, che generano guerre simili, che generano conseguenze simili. E questo forse è determinato dal fatto che la storia ci ha detto e suggerito delle cose che non abbiamo voluto imparare. Ecco, forse a questa generazione vostro malgrado tocca l'arduo compito, vista la quantità di guerra di cui siamo circondati, di provare a rimettere in fila i puntini delle cause storiche delle cose. Quindi provare empatia, sì, ma l'empatia non basta. Provare compassione, provare solidarietà, sì, ma non basta. La responsabilità è quella di capire le cause delle guerre, quella di capire le ragioni profonde e le radici dei conflitti. Grazie, ragazzi. Sì. Grazie. Per esempio, La guerra è un podcast di Francesca Mannocchi prodotto da Cora Media in collaborazione con Giffon Innovation Hub. Questa puntata è stata realizzata con la seconda D dell'Istituto Comprensivo Statale Margherita Hac di Roma. Cura editoriale Sabrina Tinelli e Marco Villa. Ha collaborato Silvia Righini. Produzione e esecutiva Ilaria Celeghin. Supervisione suono e musiche Luca Micheli. Post-produzione e montaggio Guido Bertolotti. Fonici di presa diretta Guido Bertolotti e Lucrezia Marcelli. Editing audio Michele Lacerra, Matteo Scelsa e Francesca Abruzzese. Post-producer Matteo Scelsa. Per Giffoni Innovation Hub, Head of Production Luigi Sales. Produttore delegato Liu Cappella. Grazie all'Istituto Comprensivo Margherita Hac, Plesso Nocetta di Roma e agli insegnanti Francesco Iannini, Adam Usci e Francesca Marrone. Il titolo, per esempio La guerra, è una citazione dalla poesia promemoria di Gianni Rodari. La guerra, è una citazione dalla poesia promemoria di Gianni Rodari.